Il nuovo studio condotto dalla Fondazione Agnelli, denominato Eduscopio, fornisce un importante dato sulla qualità degli istituti di secondo grado nel Paese, confermando al nord il miglior livello di istruzione e prospettive, mentre vengono penalizzate quelle meridionali che si piazzano all'ultimo posto nella classifica generale. Eduscopio è il lavoro che la Fondazione Agnelli offre da sette anni per far comprendere alle famiglie, agli studenti italiani, quale istituto possa meglio formare i ragazzi. Lo studio si basa sui risultati ottenuti nel primo anno di università da chi è stato matricola nel 2015, 2016 e 2017, quindi nella stagione precedente studente del rispettivo classico scientifico-linguistico ed artistico. L'analisi dimostra che il ruolo dei licei, anche in una stagione di pandemia, fatica a mostrare novità tra altri istituti storici in Italia per dividersi il primo posto. Milano il livello di istruzione dei licei classici, pubblici e soprattutto quello dei privati diventa uno dei migliori. A Roma, primo fra tutti il liceo classico Torquato Tasso, il Vivona a Roma Sud benestante Eur e il Visconti. A Torino in testa il classico Cavour, a Napoli il primato e ancora del San Nazaro. Di sud ancora niente, più dinamici licei scientifici con classifica sempre a Milano, Venezia, Firenze e Bologna e poi al sud con Napoli, Catania e Palermo. Eduscopio analizza anche il tasso di occupazione sugli istituti tecnici e professionali che per un diplomato medio è pari al 49,59%. In generale la possibilità di trovare lavoro per gli istituti tecnici, nonostante il periodo Covid, rimane sempre la più percorribile. È un momento difficile per il Paese e per le sue scuole, ha detto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. Molte famiglie che hanno figli all'ultimo anno delle medie sono spaesate e possono avere maggiori difficoltà durante questa emergenza sanitaria. Farsi un quadro chiaro in vista della scelta dell'indirizzo di studi e dell'Istituto Superiore per il prossimo anno scolastico.